per legge contro l'omofobia, quella che è una legge che invece mette solo il bavaglio a chi rispetta le scelte di vita di chiunque, ma ritiene di potere e dover gridare al mondo che un bimbo ha bisogno di una mamma e di un papà. E un bimbo viene al mondo se ci sono una mamma e un papà. E un bimbo viene adottato se ci sono una mamma e un papà. Ritenete giusto rischiare la galera per difendere questo concetto basilare, sì o no?